Hai un'attività locale sul territorio e ti stai chiedendo in che modo aumentare la notorietà ma soprattutto come attrarre più clienti al tuo negozio. Ti stai chiedendo in che modo fidelizzare quelli già esistenti, ma come portarne di nuovi. Ti stai chiedendo come farti conoscere nelle immediate vicinanze nel più breve tempo possibile. E allora se ti stai facendo tutte queste domande sei nel posto giusto. Perché ho creato questo format 90 secondi di local dove ogni venerdì attraverso dei video di 90 secondi io ti darò spunti, idee, strategie, consigli, trucchi da poter applicare fin da subito per portare al successo la tua attività locale. Affronteremo anche i problemi, complicazioni che Google ci mette di fronte e ti dirò come superare queste sfide. In fondo ormai pensaci, utilizziamo il nostro cellulare per qualsiasi cosa. Se abbiamo bisogno di ricevere più informazioni su un prodotto o un servizio visto. Se vogliamo soddisfare un desiderio. Se vogliamo risolvere un problema. Allo stesso modo gli utenti che stanno dall'altra parte, quindi i tuoi potenziali clienti, fanno lo stesso e tu devi farti trovare pronto per non perdere questa opportunità di business. Quindi non puoi fare a meno dello strumento per eccellenza del local marketing. Sto parlando di Google Business Profile, ovvero il vecchio Google My Business. Da questo momento in poi per te non ci saranno più problemi e soprattutto non ci saranno più segreti. Ti aspetto al prossimo video.